Finalmente stiamo andando verso Riccione. La stagione tuffistica dopo la gara invernale di Trieste è andata molto bene. Abbiamo intensificato gli allenamenti a tre volte alla settimana e grazie a Daniel ho potuto lavorare molto sulla tecnica e il mio coefficiente di difficoltà di alcuni tuffi è aumentato di parecchio. Molto bello è stata l'esperienza quando finalmente siamo passati a fare gli allenamenti all'aperto, alla piscina scoperta del Foritalico, dove lì veramente ci siamo potuti tuffare tantissimo, abbiamo potuto osservare anche atleti di livello nazionale insieme con noi. È stato molto bello e siamo cresciuti tutti di livello durante quei giorni. Grazie a tutti. Addirittura una volta siamo andati al mare a fare gli allenamenti in una piscina che sta praticamente sulla spiaggia dove dagli anni 60 ci sono i trampolini e le piattaforme. Adesso continuo il mio viaggio e vi rimando al prossimo video durante il quale potrete vedere le immagini della gara.